Agli ordini dell'arbitro, signor Stamporani di Macerata, Labor Santa Maria Nuova, Boria, Sbaffi, Benigni Andrea, Picciapuoco, Burattini, Borra, Marconi, Portolani, Riccardo, Bassotti, Giulietti, Martieri, a disposizione, Giorgini, Agri, Pesaresi, Ausili, Cecconi, Armanesi, Benigni Alessio, Ercole, Benigni Riccardo, allenatore Riccardo, Cantelprestese, Giornitto, Tomassini, Lucchetti, Brattini, Brattini, Romano, Rosi, Mazzarini, Tomasso, Parasevoli, Brotti, Antonecani, Beta, a disposizione, Gambatori, Mazzarini Alessandro, Calcina, Giorgini, Tomasso, Marini, Pagliari, Rappia, Gattoyetti, Cairema, Garini, Armanesi, Alessandro, Sivri Berwini, Allora, Duongior, Sivri Berwini, Allora, Duongior, Sivri Berwini, Allora, Duongior, Sivri Berwini, Sivri Berwini, Allora, Duongior, Sivri Berwini! Lobe, lobe, lobe! ah addirittura come hai fischiato? come hai fatto a fischiappare ora? come isca? bravo Luca, bravo Turbo bravo Luca 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 2, 2, 3, 4, 1 Buona madonna che golli! Bravo Longa! Si stanno a busto! Bravo! Uno, due! Grazie. 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 Grazie.